il sesso per gli uomini eh io non lo so con gli uomini non ci sono mai stato non lo so cos'è il sesso per gli uomini il sesso per gli uomini vi è fatto di tanto gioco e fantasia gioco e fantasia due cose il sesso per gli uomini è una cosa come una fila di bagni pubblici molto simile il sesso per gli uomini sei un po' come il mare ti devi entrare dentro secondo me il sesso per gli uomini è un po' come i sassi perché so mi ha un po' la forma materna non è vero lo sesso per gli uomini è come una statua di granito di donna messa di culo qualcuno pensa che il renzismo possa essere considerata una malattia pruriginosa ma io dico state sereni anche perché io non penso come Berlusconi io non sono Berlusconi io non voglio essere Berlusconi anche perché sulla base di un discorso programmatico e di sinistra sono candidati in Abruzzo e agli abruzzesi con tre B dico sta per nevicare chiama esercito è ora dei fatti non delle parole noi abbatteremo il muro delle intolleranze con costanza e decisionismo io so cicchito io so il più dritto ne vengo da RPSI e mo sto qui era solo una butata io sono al servizio dei cittadini compagni saremo fincretici ma non disarmonici nel tratturo di un semplice dopodomani oppure vendola la cultura è la sola cosa importante che da nano ti rende gigante perciò ora ti canterò il mio idioma io che ho solo un diploma io ti amo da diplomato amor che a nullo amato potrà solamente un laureato amarti più forte di me